Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. Le anticipazioni di Amici 2023 ci porteranno a scoprire cose molto interessanti. Ma prima di continuare vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale, per non perdere le prossime anticipazioni. Grazie di cuore a chi lo farà. Le anticipazioni ci fanno capire che saranno tutti in sfida per il serale. E a breve scopriremo chi saranno gli eliminati. La produzione deciderà di mettere alla prova tutti i concorrenti che sono riusciti ad accedere a questa fase dello show, compresi coloro che ad oggi avevano già conquistato la maglia di accesso al serale. In poche parole anche coloro che avevano conquistato la maglia del serale saranno di nuovo in sfida. Quindi, tutti sono stati messi nuovamente sullo stesso piano, ed hanno dovuto togliersi la maglia del serale per affrontare una nuova sfida diretta. I concorrenti sono stati così giudicati dai loro professori, che al termine dell'esibizione avrebbero dovuto emettere il verdetto finale, e stabilire i numeri dei 15 concorrenti da ammettere allo show, la cui prima puntata è in programma per sabato 18 marzo su Canale 5. Sebbene le anticipazioni riguardanti la nuova puntata, rivelano che alla fine, ad avere la peggio sono stati due allievi. Trattasi della ballerina Benedetta che è stata così eliminata dalla gara, ad un passo dall'inizio del serale. Il cantante Niveo, anche lui costretto a lasciare la scuola, dato che non ha convinto la giuria dei professori. Sono loro quindi i due eliminati dallo show di Maria De Filippi, anche se Benedetta avrà comunque la possibilità di viversi il serale, ma in maniera diversa. La ballerina è stata scelta come accompagnatrice di Mattia Censula nei vari passi a due di latino, che si svolgeranno durante la puntata. Sui social del programma è stato svelato il cast dei giudici del serale di Amici. Della vecchia guardia non è rimasto più nessuno in studio quest'anno. Non ci saranno De Martino, Stesce e Filiberto di Savoia. Al loro posto infatti arriveranno le new entry, Cristiano Malgioglio Michele Bravi e Giuseppe Giosuè. Cosa ne pensate? Chi sarà secondo voi il primo eliminato al serale? Scrivetelo nei commenti. E se vi va, lasciate like e iscrivetevi al canale, per non perdere le prossime anticipazioni di Amici. Grazie davvero, ciao!